Oggi parliamo di network marketing, conosciuto da molti, apprezzato da tanti, tenuto un po' alla larga da alcuni perché c'è un po' di diffidenza e proprio su questo oggi vorrei fare chiarezza con Alessandro Velludo che è il nostro ospite in studio di oggi, che si occupa proprio di network marketing e quindi è un networker. Esatto. Ben arrivato Alessandro. Allora innanzitutto spieghiamo di che cosa si tratta, che cos'è il network marketing? Il network marketing è una nuova soluzione di lavoro sostanzialmente, diciamo nuova perché il nome la rende nuova ma è un qualcosa che noi tutti facciamo ed è sempre stata fatta in assoluto nel tempo, quello di consigliare un prodotto con il quale ci siamo trovati bene ai nostri amici. La cosa più banale che possiamo pensare è sono andato al cinema, ho visto un bel film, ti consiglio di andare a vederlo. L'unico problema che c'è è che normalmente il gestore della sala cinematografica non dà nessuna remunerazione per aver segnalato questa attività. Peccato, potrei fare la segnalatrice di buoni film. Il vantaggio nel network marketing è proprio quello di poter fare delle segnalazioni, dare dei consigli, dare delle indicazioni di vario tipo perché i networker possono gestire le cose più svariate che ci possono essere nel settore economico e avere una remunerazione, una commissione sostanzialmente su quelli che sono gli acquisti che le persone vanno poi a fare. Io consiglio una crema piuttosto che un servizio sulla crema venduta dall'azienda e non da me perché io sono comunque un intermediario sostanzialmente, io percepisco una commissione. Il vantaggio è che io percepirò la commissione ogni volta, vita natural durante, che questa persona acquisterà quella crema o quel servizio da quella particolare azienda. Ecco, questo è un grosso vantaggio perché nel momento in cui io mi sono trovato bene con quel prodotto con quel servizio, probabilmente continuerò nel tempo e io quindi avrò la possibilità di avere un introito che arriva. E non solo, lei mi diceva, scusi se l'ho interrotta ma poi magari ci ritorniamo, che c'è anche una legge. Assolutamente, assolutamente. In effetti volevo un po' precisare questo. Oggi, comunque da qualche anno, la regolamentazione di questo tipo di attività è data dalla legge 173 del 2005. È una legge che regolamenta quella che è l'attività fiscale dell'attività e che prevede, mi pare che è il comma 2 dell'articolo 5, che queste attività non debbono essere né di carattere piramidale né le cosiddette catene di Sant'Antonio. La legge recita proprio testualmente questi due aspetti. Quindi, di fatto, siamo delle persone regolamentate da questa legge. Le aziende ci devono rilasciare un tesserino e questo tesserino viene rilasciato dopo di aver fatto una segnalazione alla questura dei vari nominativi. Questo è ovviamente un ulteriore vantaggio perché siamo delle persone riconosciute, testate, viste, regolamentate da una legge. La legge poi ha avuto tutta un'evoluzione con vari regolamenti anche a livello IMSS e quant'altro per la normativa e quindi comunque è un lavoro. Cioè, la cosa che io darei a sottolineare non è il solo e semplice passaparola. Il passaparola è, se vogliamo, il motore sottostante a questo tipo di attività. Quello che poi c'è è quello che ognuno di noi vuole fare. Come ci è arrivato, questo volevo sapere, come è arrivato a conoscere questo tipo di lavoro? Ecco, io sono arrivato a conoscere questo tipo di lavoro in maniera un po' particolare, se vogliamo. Purtroppo nel 2005 ho avuto un brutto incidente, un incidente autostradale e non riuscivo a riprendere la mia attività. Avevo delle difficoltà anche motorie, onestamente. Una signora ci segnala dei prodotti che potrebbero essere interessanti, sai, piuttosto di prendere le solite cose, prova anche questo, le classiche chiacchierate che si fanno. Inizio a prendere questi prodotti e in fatalità, veramente nel giro di un mese, un mese e mezzo, io ero già pronto per ripartire, ho ritrovato energia, attività, eccetera. Da lì proviamo degli altri prodotti a livello di famiglia e vediamo che ci troviamo bene, li segnaliamo a parenti ed amici e capiamo che non vale più tanto la pena solo di segnalarli, ma anche di mettere a futto anche un po' sta cosa. E da lì iniziamo, ci iscriviamo sia io che mia moglie e iniziamo a fare questo tipo di attività, vedendo che ogni mese ci arriva X. Quindi lei ha iniziato diciamo come cliente? Io ho iniziato come cliente. E poi si è sviluppata. Siamo in chiusura, il tempo a nostra disposizione è quasi finito, Alessandro. Perché consiglierebbe, diciamo, di avvicinarsi a questo tipo di mercato? Sia come clienti che come possibile lavoro. Il consiglio che potrei dare a chiunque, ma veramente a chiunque, perché non si tratta di saper vendere o saper fare qualcosa, è stata solo di portare fuori la propria emozione sostanzialmente. Poi per istruirci nei prodotti ci penseranno le aziende. Il consiglio che posso dare è che si può integrare il proprio stipendio, le proprie esigenze anche economiche e familiari, con 100, 200, 300, 500 euro al mese, senza grossissimi problemi, con degli importi che arrivano già tassati. E quindi non dobbiamo fare la dichiarazione dei crediti su quegli importi, non dobbiamo preoccuparci di cose particolari. e diventa un'integrazione tranquillissima di quelle che sono le nostre entrate. Se qualcuno vuole... Non bastano mai. Direi proprio di sì. Se qualcuno vuole, lo potrebbe, poi nel tempo lo deciderà, lo vede, lo valuta, farlo diventare proprio la propria attività. E su questo faccio proprio un piccolissimo esempio, oggi molto noto perché è in gara per diventare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è un networker. E Donald Trump non è partito da fare cose particolari, è partito con l'idea di dire, mi faccio una rete di persone che lavorino con me e sotto di me per poter costruire un impero. E lo ha fatto. E con questo esempio chiudiamo. Alessandro, grazie per essere stato qua con noi. Grazie a voi.